a di visiti buongiorno ok un attimo sì alfonso c'è babbo natale a telefono donate non sto lavorando davvero al telefono c'è babbo natale vabbè passapelo pronto ciao alfonso sono babbo natale ho bisogno di voi sento che nessuno più crede in me ragazzi mi scuso per la videocon improvvisata ma sapete le renne non sempre sono collaborative mi sono rivolto a voi perché da anni sto ricevendo sempre meno letterine sento che la fiducia in me è in calo nessuno più crede in babbo natale allora raga l'obiettivo mi sembra chiaro abbiamo bisogno di qualcosa di virale che faccia sorridere e credere di nuovo in te potremmo coinvolgere la gente di tutto il mondo con un hashtag in inglese tipo blivinsanta possiamo darci del tu? ok beh potresti registrare un video rivolto a tutti bambini e adulti dicendo loro caro mondo è difficile essere l'unico vero babbo natale ecco cioè dobbiamo essere divertenti ma credibili siamo sicuri che chiunque vorrebbe vedere il vero babbo natale potremmo anche creare il tuo nuovo logo qualcosa che ti rappresenti davvero bene divisiti allora abbiamo un piano facciamo conoscere a tutti il vero babbo natale grazie mille ragazzi siete la mia ultima speranza va bene faremo del nostro meglio ragazzi emergenza sappiamo già tutto stiamo preparando il piano per babbo natale che sogno assurdo babbo natale che chiamati i visiti grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi Grazie a tutti.